Ti appassio direttore, qua, il tuo corpo di mezzo. Quando vuoi? Sergio Rubini, una vera inutile, in autunno sulla Rai lo vedremo come regista della miniserie Giacomo Leopardi. Che esperienza è stata e che ritratto uscirà fuori dal grande poeta e pensatore? L'ha fuori un ritratto insolito perché è un personaggio, secondo me, poco conosciuto, un Leopardi vitale, amabile, pessimista, ma ha anche invece affassionato alla vita, soprattutto alla bellezza. E quindi, soprattutto poi, un Leopardi senza confronto. Che esperienza è stata invece il strano lato di Agosto Oggetti, la signora è portato a teatro? È un'esperienza interessante perché mi piace lavorare sui miei libri, mi piace pensare i libri a teatro, per divulgarli, per far riconoscere, mi piace un spazio di ricerca, un luogo, un problema, diciamo, poter approfondire dei testi, magari poi la poter fare sui miei schermo. E poi perché il teatro mi piace soprattutto perché non mi piace solo lo stage, ma anche il backstage, e penso che in questo momento lo spettatore cambia delle più più backstage.